CETRIN WATSON Beh, voi sì che siete preparate. Ma in un mondo di ricchezze e privilegi, essere istruite... Una volta laureata ho intenzione di sposarmi. E poi? Beh, poi sarò sposata. Significava trovare marito. Sei mancata a quattro lezioni da quando ti sei sposata. I docenti chiudono un occhio quando le studentesse sposate mancano a una lezione. È veramente geniale, una scuola di buone maniere mascherata da college. Io pensavo di insegnare ai leader di domani, non alle loro mogli. Al diavolo il college. Io chiuso. Donazione! Può andare peggio di così. Le donne hanno bisogno di eroi, CETRIN. Devi frequentare oppure ti boccia? Sì, mi boccia. Ci saranno delle conseguenze. Mi stai minacciando? La sto soleducando. Credevo fosse compito mio. Io le assomiglio un pochino. Ciao. Ciao. Io la trovo favolosa. La storia di una donna che sfiderà le loro menti. Potete adeguarvi a ciò che gli altri si aspettano da voi, oppure... Lo so, essere noi stesse. E le porterà in un viaggio che non avrebbero mai immaginato. Guardate oltre la pittura. Aprite la vostra mente a un'idea diversa. A Natale. Giuri di non dire a nessuno ciò che vedrà, sentirà o odorerà stasera. Odorerò? Sì, odorerà. Mani in alto. Siete invitati a festeggiare... Evviva! ...l'arte del vivere. Sorpresa! Giulia Roberts, Kirsten Dunst, Giulia Stiles, Maggie Gyllenhaal. Questo posto ha bisogno di te e anche tutti noi. Mona Lisa Smile. Ciao, Mona Lisa. Ciao, Mona Lisa.